La richiesta al primo cittadino di dimettersi è arrivata ieri sera in consiglio comunale da parte della consigliera del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri. I grillini infatti sono intervenuti sulle presunte regolarità di gestione inerenti all'ambito sociale 6, istituito con delibera regionale nel 2001 e con il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la pianificazione e la programmazione dei servizi sociali. E' costituito da 12 comuni di cui quello di fa non è il capofila, per questo oltre al compito di gestire le risorse è anche l'obiettivo di vigilanza sul lavoro dell'ambito stesso. I consiglieri pentastellati che lamentano le difficoltà nel reperire la documentazione da parte degli uffici, inaccettabili dicono per chi deve svolgere una funzione di controllo, sostengono che alcuni dirigenti, i vertici delle cooperative coinvolte, i sindaci e gli assessori competenti fossero a conoscenza di tutto ciò. E' evidente secondo loro che le responsabilità politiche più gravi ricadano sul comune capofila e sulla scia di queste considerazioni hanno chiesto formalmente le dimissioni del sindaco Seri per non essere stato capace di prevedere finora alcun provvedimento riguardante la coordinatrice d'ambito, Sonia Battissini, e di non averla messa nell'impossibilità di continuare a gestire le risorse assegnate almeno in via cautelativa. I grillini rimproverano il primo cittadino anche per essere venuto a conoscenza da tempo della situazione seriamente compromessa senza denunciare nulla, anzi sostenendole, giustificandola, specificano, lasciando che fosse un dirigente a prendere l'iniziativa di presentare gli esposti. Vorrei ricordare che la dottoressa Battistini, che è la coordinatrice oggi dell'ambito sociale, è stata nominata all'unanimità da tutti e 12 sindaci, compreso quindi il nostro l'anno scorso, il 23 luglio del 2014, con una nomina di tre anni. Tra l'altro questa nomina ci sembra che presenti delle grosse anomalie ed è per questo motivo che presenteremo un esposto, perché ci sembra che gli atti si contraddicono tra di loro e sono firmati tutti dal nostro sindaco, quindi ci vorremmo vedere chiaro, ma non è nostra competenza, per cui ci rivolgeremo alla magistratura. Un'altra grossissima responsabilità è che il sindaco di Fanno avrebbe dovuto fare un contratto a questa dipendente, un contratto che non è mai stato fatto, quindi ci sono degli elementi di criticità molto forti che ci fanno pensare che le cose non siano state fatte come si doveva, anche da chi aveva l'obbligo di controllo. Per questo avete chiesto le dimissioni del sindaco? Per questo abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco per inadeguatezza, nel senso che adesso ci troviamo in una situazione gravissima ed è inutile girarci intorno. Ci sono dei lavoratori che sono da mesi che non prendono lo stipendio, perché fatture sono ferme nell'ufficio di ragioneria per oltre 500 mila euro a Fanno. Notizia di pochi giorni fa è che più di 600 mila euro dalla regione sono stati bloccati, quindi i lavoratori che hanno già prestato i propri servizi non sono riusciti ad ottenere lo stipendio. Questo è il primo elemento di criticità, ma c'è il secondo che forse è ancora più grave, cioè i servizi fino a quando verranno garantiti. Qui stiamo parlando di persone in completo stato di bisogno e di fragilità. Grazie a tutti.